Milan, Lecce 3-0 e Fonseca Mania, adesso è Fonseca Mania, adesso Fonseca ne parlano tutti, insomma attenzione, il Milan vince lo scudetto dopo aver battuto l'Inter nel derby, batte l'Inter 2-1 nel derby, incomincia a volare quel Milan di Pioli, vi ricordate quel periodo là, Pioli o Sonfire, quel periodo là, non è neanche tanto distante, attenzione se non può succedere di nuovo, batte l'Inter nel derby, quella nascosta e si sveglia, a quei 5 minuti del Milan è il Milan che vorrebbe vedere Fonseca, però quell'intensità non è così facile, l'unica perplessità, mi metto un po' la maglietta da interista nella speranza che rallenti il Milan, io sono tifoso alla fine, con rispetto ma tifoso, l'unica perplessità è che questo modo di fare calcio, essendo dispendioso, magari non lo puoi tenere nei 90 minuti, qualcuno ti un po' ti capirà e incomincerà a prendere le contromisure, perché per adesso le contromisure, quando hai 4 attaccanti, Abram, Morata, Leao e Pulisic, che si muovono tanto, non è facile, ma non sono facile da prendere, io ho la magnetta, per adesso sono un po' impegnato, ma la prossima volta andremo a vedere come poter prendere queste contromisure, come poter fare questo, però un Milan, non dico scintillante, ma un Milan che incomincia a piacere, incomincia a piacere, cioè incomincia a vedere il progetto, dopo se vinci, non vinci, ma sicuramente adesso il tifoso del Milan è molto più soddisfatto di quello che era fino a sette giorni fa, quando non ne poteva più, quando sentiva solo cose brutte, quando sentiva anche dichiarazioni che non piacevano, non vedeva un progetto, si vedeva già in serie B, si vedeva già con le vesti strappate, era proprio una cosa brutta, il Milan adesso, quella vittoria nel derby, gli ha dato una competitività, adesso il tifoso del Milan dice, ma sapete che, anche io sono competitivo, in effetti che sta andando bene? La Juventus, sì, non prende gol, ma non ne fa, l'Inter l'abbiamo battuta nel derby, quindi alla fine è battibile, la Roma, beh, la Roma sì, un po' sta crescendo, ma non mi sembra che sia che, l'Atalanta le sta prendendo a destra e a sinistra, il Napoli di Conte, va bene, però sai, non siamo molto distanti, ecco, questo è un po' il ragionamento che secondo me entra nella mente dei milanisti, e giustamente anche, giustamente, assolutamente giusto, perché? Perché il Milan è, alla fine, signori, Mignane è titolare francese, Hernandez è titolare francese, nazionale parlo, anche Fofana gioca nella nazionale, Pulisic è uno dei capisaldi della nazionale americana, Morata è il capitano, se non sbaglio è il capitano della nazionale spagnola, oh, signori, questi sono giocatori, dopo gli altri giocatori, i giocatori giocavano in Premier, Reverito Mori, Love to Chick, Renders è nazionale olandese, Gabbia, secondo me, però poi ci può arrivare anche lui nazionale, questi giocatori ci sono, i giocatori ci sono, non è che non ci sono, adesso devono mettersi dietro a Fonseca, cioè, ti devi mettere ordinatamente dietro all'allenatore, e dopo, se l'allenatore sbaglia, qualcuno pensa a De Boer, De Boer all'Inter che vince a Torino con la Juventus, però dopo fa male, viene esonerato lo stesso, no, no, secondo me non sarà la stessa storia con Fonseca, addirittura è stato più importante il 3-0 con l'Ecce, cioè, non è vero, la vittoria con l'Inter è quello che accende il motore, o che accende in quella maniera, però il 3-0 con l'Ecce ti dice, ti conferma che il Milan è una squadra che può sicuramente fare bene, o se può fare bene, dopo in Champions non lo so, non lo so, perché in Champions è un po' diversa, anche se il Milan ha il gioco da Champions, ricordatevi, la Champions, devi andare in verticale, devi attaccare sempre, devi essere così per vincere, è questo che il Milan ha fatto, però ne ha presi tanti con Liverpool, ma la strada è lunga anche là, chi lo sa dove arriverà, c'è anche la Coppa Italia, ci sono diverse cose, secondo me si sta riprendendo, si sta riprendendo proprio quella vittoria del derby, il derby è questo, il derby è importante, l'altra faccia della medaglia è quanto si sgonfiano le ruote dell'Inter, boh, questo vedremo, questo vedremo, se può essere anche un campionato eccezionale, può essere un campionato dove ci divertiremo, può essere anche quello, chi lo sa, perché no? Siamo qui a vederlo, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia e d'Europa e del mondo, signori, seguiamo tutto e tutti, le cinque grandi squadre, punto sul campionato, adesso ho aperto un nuovo canale, dico ctnpodcast, seguitemi da quella parte, perché là si parla di vita, di cose di vita, di anche comunicazione, di quello che sta succedendo nel mondo dei social, se vi piacciono queste cose, seguitemi dall'altra parte, iscrivetevi, che vi appaiono, dopo io vi appaiono nella entry, diciamo, del vostro YouTube, scegliete se quell'argomento vi piace o non vi piace, questo sarà una cosa vostra, però sta crescendo, sicuramente sta crescendo tutta una serie di canali che ho, un po' messo da parte alcuni due, tre canali, perché non ho tempo, non ho il tempo, è proprio una questione di tempo, ma anche quello arriverà, arriverà anche il tempo. Detto questo, ritornando a quello che è il Milan, ieri mi è piaciuto molto Fofanà, mi è piaciuto molto Fofanà, un po' tutta la difesa mi è piaciuta, c'è il Lecce, il Lecce, attenzione, aveva fatto le sue belle partite, era stato un po' sulle gambe nell'ultima partita contro il Parma, quello l'avevo notato anch'io, però era un Lecce in ripresa, un Lecce che con l'Inter e l'Inter l'aveva fatto soffrire, non soffrire, però un po' era stata lenta la vittoria dell'Inter, qua ai 5 minuti, za, za, zaak, zaak, ti ha apparecchiato la vittoria, cioè il Milan ti ha apparecchiato la vittoria in 5 minuti, 5 minuti, quel Milan lì, se fosse così, 90 minuti, non lo fermi, quindi è una questione di intensità, ormai quello che è il Milan è proprio una questione di intensità, riesci ad avere questa intensità per 90 minuti? sei fantastica, ce l'hai solo per 5 minuti, contro gli squadroni finisci male, perché se hai questa intensità solo 5 minuti, giochi contro il Real Madrid, il Manchester City, quando sono in forma, quelle altre squadre, il Bayern Monaco, se hai questa intensità 5 minuti e tutto il resto è passeggio a destra e a sinistra, non è cosa, quindi sicuramente vedrete che si andrà verso là, però dei tasselli già si smettono a posto, e il tassello principale che è stato messo, il segnale più forte che è stato messo a posto è, questo è l'allenatore, si va dietro l'allenatore, punto, cioè punto, non ci sono cool in break, situazioni, questo è l'allenatore che sta facendo il suo mestiere e che verrà giudicato per quello che saprà fare o non saprà fare, ma dopo, non prima, in effetti questo è stato il grosso errore che ha fatto un po' tutta la critica, anche la tifoseria, anzi soprattutto la tifoseria, io giudico Fonseca ancora prima che Fonseca arriva, che ci sta anche un po', ma è che non ci sta, ma Fonseca quel colpo di coda, quell'assoluto colpo di coda del derby, quello doveva fare, una bella mossa di coraggio, l'ha fatta ed è qua, è arrivato, vi ripeto, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia e d'Europa e del mondo, mi raccomando, iscrizione, 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 ragazzi, campanella, che altro dirvi, devo fermare una cosa che sto facendo una cosa al computer, perché io non faccio mai una cosa sola, io non faccio mai una cosa sola, sono multitasking ma non va bene così, signori non va bene così, non va bene così, questo per me, detto questo, ho altri canali, perché ovviamente non faccio mai una cosa sola, non c'è mai un canale solo, ci sono tanti canali, tante cose, ma il canale dove vi vorrei vedere tutti, e dico ctnpodcast, perché la mia intenzione è quella di invitare delle persone, fare le live, invitare gente comune, persone comuni, che raccontano cose comuni, questa è la mia intenzione, vediamo se ci riesco a farlo, quindi siete già tutti invitati da adesso, e raccomando ragazzi, qua lo trovate in descrizione, andate luce da dove, c'è questo link, ci sono link anche a Calcio Grande, una grande passione, ci sono altri link, quindi se volete seguire, che non vi costa niente, mettete un click, mettete un mi piace, commentate, fatemi sapere, bene Milan, bravo Milan, in effetti, bravo, il Milan è stato, una bella partita, quei cinque minuti sono stati veramente belli, detto questo, alla prossima, signori, andiamoci a vedere le altre partite, ciao a tutti, veramente, mi raccomando, mi raccomando, ci tengo, clic clic clic, così ci troviamo anche, negli altri canali, ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao.